Ho fatto il garante già in un primo mandato dal 2016 al 2020 e conosco la fenomenologia molto da vicino e siccome non intendo circunnavigare nel linguaggio della retorica, voglio dirti che non è il dolore di tante madri e di tanti padri, è il dolore di tutte le persone che hanno una coscienza davanti a Dio, ma anche una coscienza laica. Non si può accettare che bambini muoiano in questo modo e sono bambini di prossimità che noi abbiamo raccattato, scusate il termine, nelle coste calabresi, ma la domanda è quanti muoiono ingoiati dal Mediterraneo dei quali non sappiamo niente? Quanti sono quelli che sono morti fino ad oggi? Noi continuiamo a farci domande ma abbiamo già un obiettivo preciso. La colpa, la colpa, parliamo di colpa perché non si può parlare di fronte a questi avvenimenti di cortocircuiti istituzionali. Il ministero ha detto ma l'Europa avrebbe detto ma questo non avrebbe detto. L'Europa non funziona. La colpa è dell'Unione Europea. La colpa ha un indirizzo preciso. Si chiama Unione Europea. Ed è ora di finirla con le beghe politiche perché davanti ai bambini morti si devono ammainare tutte le bandiere. Mentre parlava all'Onorevole Sofo dicendo che ci sono palesemente delle strumentalizzazioni politiche pro o contro governo italiano è questa la vera tragedia. Cioè noi abbiamo un carrozzone sfasciato che ci sta dissanguando e che si riconosce unitario solo ed esclusivamente nell'euro. Tutto il resto ditemi che cos'è l'Europa. Quando io vado nelle manifestazioni e sento suonare l'inno di Mameli io rabbrividisco. Quando sento l'inno alla gioia io gioisco perché è un gran bell'inno ma da un punto di vista dell'adesione emotiva io non mi riconosco, non mi posso riconoscere. Io voglio l'Europa. Io non sono contro l'Europa. Io voglio però un'Europa che sia istituzione, che abbia la dignità di una istituzione. Un'Europa che sape abbattere i piedi nelle trattative con i continenti che sono nostri vicini e che ci mandano tutta questa gente disperata. Perché per loro è un mercato, è un turpe mercato. Noi non dobbiamo guardare a questo fenomeno solo ed esclusivamente dal punto di vista della disperazione di chi lo intraprende. Questo viaggio della morte o distenti comunque perché se arrivano, arrivano morti distenti. Ce la fanno appena quanti ne ho visti io sbarcare in Calabria. Noi dobbiamo interrogarci sul mercato che c'è dietro, sul terrorismo internazionale che c'è dietro, perché questo è una forma di terrorismo internazionale. Allora come garante dell'infanzia della Calabria, ma certamente cosciente di interpretare il sentimento di tutti i garanti di questa nostra nazione, io dico basta, io dico si trovi una soluzione. Non c'è dubbio che dire. Li prendiamo, ma facciamoli arrivare in sicurezza. Parlo soprattutto dei bambini. I bambini hanno una dichiarazione universale sui diritti dell'infanzia e sono cittadini di diritto in ogni angolo del mondo, soprattutto quando sono in difficoltà. Allora stipuliamo protocolli, troviamo nuove intese, facciamo qualcosa. Se li dobbiamo portare, nessuno li respinge, perché basta con questo sport del respingimento. Noi siamo italiani, siamo un popolo di immigrati. Noi sappiamo cos'è l'emigrazione. Ma voglio dire, non è solo questione di Calabria, è questione di Italia. Noi queste persone diciamo benvenuti, e se sono piccolini, benvenuti. Quelle bare bianche a Crotone, al palazzetto dello sport, sono un pugno nello stomo, che scusate se lo dico, non so chi abbia messo oggi vicino a quelle bare anche la bandiera dell'Unione Europea, che in questo momento suona come uno sfregio. Allora quello che si vuole dire alle istituzioni che decidono è decidete. Vogliamo andare davanti a una trattativa con questi popoli, sia un'Europa forte, organizzata, perché, vedi Giuseppe, io ti devo dire anche un'altra cosa. Quelli che sopravvivono e che rimangono in Calabria, noi abbiamo problemi di collocazione perché non abbiamo centri di accoglienza. Io ti dico per esempio che al cara di Crotone ci sono stati, credo ancora ci siano, bambini che sono nei centri per adulti perché non abbiamo abbastanza strutture di accoglienza per accoglierli degnamente. Allora creiamo come Unione Europea una degna politica di accoglienza. Ce li andiamo a prendere anche in aereo i bambini, ce li portiamo qua, li collochiamo in sicurezza perché poi un'altra piaga ancora tra quelli che ce la fanno. Molti scappano appena approdati nel nostro territorio. Dove vanno a finire? C'è chi ha parlato di traffico d'organi, c'è chi ha parlato di manovalanza nelle campagne, c'è chi ha parlato di bambini che vanno a finire nella prostituzione, c'è chi ha parlato di bambini che finiscono per fare i militari della mafia. La vogliamo finire. Non è più tempo di chiacchiere. Il cortocircuito che c'è stato per questa nave si chiarisca, ma se deve essere politica, politica dell'accoglienza e dell'immigrazione, sia una politica europea. Una sola nazione non ce la può fare. Diceva bene, concludo l'onorevole Sofo, erano più vicini alla Grecia che a noi a un certo punto. La Grecia forse non è un'Unione Europea? Io mi chiudo qui e dico solo una cosa, che in questo momento chi sta utilizzando questa tragedia per fare polemica politica dovrebbe mettersi una maschera non a carnevale, 365 giorni all'anno e non togliersela più.